salve a tutti e benvenuti a watch and work i tutorial video conti tech per meccanici d'auto qui scoprirete come sostituire la cinghia dentata di svariati veicoli in modo facile sicuro e rapido i video illustrano le principali fasi di lavoro e si rivolgono ai professionisti durano qualche minuto ma è tutto tempo bespeso che riguadagnerete durante il montaggio sono stefan meyer in ogni puntata vi mostrerò il motore di un veicolo diverso seguitemi salve oggi ho qualcosa di nuovo per voi finora abbiamo affrontato i motori con cinghia dentata oggi ci occupiamo di quelli a catena ho qui il motore di una volkswagen polo 9 n un tre cilindri di 1.2 litri da 40 kilowatt identificato dalla sigla bmd del 2005 in questo caso ci serve il nostro kit catena tc 1003 k 1 per accedere alla trasmissione a catena occorre smontare prima il filtro dell'aria il coperchio del motore e la protezione anticastro successivamente il rivestimento del passaruota a destra la cinghia poli v contenditore poi l'alternatore e il compressore del climatizzatore del quale non è necessario scollegare le tubazioni per prima cosa regolate la fasatura rimuovete il sensore sull'albero a cam e inoltre il sensore del numero di giri in basso sul volano per prima cosa far avanzare lentamente il motore agendo sull'albero motore fino a quando non trovate qua sopra la piccola scanalatura in cui va inserito il nostro utensile l'inserimento deve essere agevole al posto del sensore dei giri inserite il nostro secondo utensile di bloccaggio in basso sul volano se non riuscite ad applicare l'utensile sul volano rimuovete entrambi gli utensili di bloccaggio fate compiere al motore un altro giro completo e riprovate se non riuscite ancora a inserire gli utensili di bloccaggio è necessario regolare nuovamente la fasatura molto probabilmente il cliente è venuto da voi per l'accensione di una spia sul cruscotto e voi avete letto la memoria guasti riscontrando un segnale non plausibile dell'albero a cam a causa dell'allungamento della catena i segnali dei due sensori non coincidono più e viene generata questa segnalazione di guasto occorre regolare nuovamente la fasatura per questo bisogna rimuovere il coperchio della scatola della distribuzione e la ruota dentata dell'albero a cam superiore il pignone della catena deve essere allentato prima va regolato l'albero a cam e poi bisogna far avanzare l'albero motore fino a quando non è possibile inserire l'utensile ora la fasatura è a posto dedichiamoci adesso alla catena rimuovete dapprima la puleggia dell'albero motore poi la coppa dell'olio e infine il coperchio della scatola della distribuzione la trasmissione a catena è allo scoperto rimuovete prima di tutto la catena di azionamento della pompa dell'olio prima smontate il tenditore estraete semplicemente la ruota dentata qui in alto e lasciate penzolare la catena ora è il momento di allentare la tensione ciò vale anche per la catena a tal fine premete la guida di scorrimento contro l'ammortizzatore a olio e bloccate quest'ultimo con una chiave a brugola da 3 passiamo adesso alla sostituzione dei componenti tutto il vecchiume va buttato e va rimpiazzato con i pezzi nuovi del nostro kit catena per la nuova puleggia dell'albero a cam utilizzate una nuova vite che stringete nuovamente a 20 newton più 90 gradi i nuovi componenti compresi nel nostro kit sono ora montati passiamo ora al tensionamento della catena rimuovete questa copiglia dal ten di catena applicando una leggera pressione sulla guida di scorrimento prima di riassemblare il motore seguendo la sequenza inversa pulite il coperchio della scatola della distribuzione e i supporti liberandoli da olio e grasso e infine riapplicate il coperchio usando un mastice approvato dal costruttore ecco è quasi fatta ora dovete solo terminare di montare il motore prestate attenzione alle indicazioni del costruttore in particolare per quanto riguarda le coppie ricordate non stringete troppo e non dimenticate il nostro sigillo di qualità applicate l'adesivo in posizione ben visibile nel vano motore perché il cliente veda che avete montato ricambi di qualità grazie a tutti grazie a tutti